via partono 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 Staccatona di Belfio Prende la scia su Belfio all'esterno Attenzione potrebbe tirare la staccata Vediamo Adesso non avrà un po' di più di trazione all'esterno Vediamo se riuscirà a chiudere il sorpasso C'è gran controllo Non ci sta, non ci sta Il trozzerone è meglio Vediamo se ci riprova all'interno Il bloccaggio Come infilarsi all'interno Ma Omar ha in frazione Benissimo L'esterno Vediamo se li siete molto bene L'interno Quasi toccano C'era stato giacato C'era stato giacato Si guardano all'interno Attenzione un po' largo Oh attenzione Non ci sta Alex Bova Ma deve alzare il piede Attenzione grazie Oh attenzione Nooo Nooo E' Gils che Spreta di coraggio vedendoli lì davanti media media cheers media si, va qui in fondo 3, 2, 3, 4 video il DRS è già chiamato perfetti vice, attenzione si gira, perfetti vice ma ci sta tra queste due curve è uscita Vediamo, sarà un lag sicuramente Sarà un altro lag e no, invece va dritto Tanto non è come la fincia Manta, sicuramente Manta, sicuramente